Il comandamento del Duce è la divisione di camicie nere 28 ottobre, ammassata al campo di aviazione di Benevento. Le magnifiche legioni in completo assetto di guerra sfilano dinanzi al capo del governo e ministro di tutte le forze armate dell'Italia fascista. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS